Ciao a tutti da Eleonora, questo è lo Xiaomi Mi Watch Lite, uno smartwatch di base molto semplice ma comunque un buon fitness tracker. Come potete vedere la cassa dell'orologio ha una struttura in plastica opaca da 41 mm ed è disponibile in ben tre varianti di colore blu navi, avorio e nero. Il cinturino è in gomma morbida al tatto e anche qui è possibile scegliere tra cinque diverse opzioni di colore tra rosa, avorio, nero, blu navi e verde oliva. Inoltre si possono scegliere più di 120 quadranti. Pesa 35 grammi e misura 11,9 mm di spessore ed è quindi leggero e piuttosto sottile. Mi Watch Lite ha un display LCD TFT rettangolare touchscreen e a colori da 1,4 pollici con una risoluzione di 320x320 pixel, una densità di 323ppi e offre 350 nits di luminosità. Questo smartwatch ha un grado di resistenza all'acqua che rende sicura l'immersione in acqua fino a 50 metri di profondità. Per quanto riguarda le funzioni sport, questo smartwatch è dotato di 11 modalità di allenamento che includono la corsa all'aperto, il tapiru lan, ciclismo all'aperto, nuoto libero, nuoto in piscina, attività libera, cricket e trekking. Per mappare in modo preciso gli allenamenti all'aperto, il Mi Watch Lite è dotato di doppio sistema di posizionamento satellitare GPS più GLONASS, di una bussola e presenta il barometro, il sensore giroscopico e l'accelerometro a tre assi. Oltre alle funzioni sport, questo orologio monitora la salute tenendo traccia delle condizioni fisiche. È in grado quindi di monitorare la frequenza cardiaca, il sonno e offre esercizi di respirazione guidata per aiutare ad alleviare lo stress. Ma non è tutto, questo orologio si occupa anche di registrare calorie bruciate, di contare i passi, controlla la riproduzione musicale e visualizza all'istante chiamate, messaggi di testo e notifiche app. A questo proposito il Lite funziona con dispositivi Android e iOS, scaricando l'applicazione Xiaomi Wear per Android e Wear Lite per iOS. Infine arriviamo a parlare della batteria. Secondo quanto dichiara Xiaomi, Mi Watch Lite ha una batteria di 230 mAh e offre fino a circa 9 giorni di autonomia e fino a 10 ore con modalità Sport GPS continua. Impiega circa 2 ore per una ricarica. Potete trovare lo Xiaomi Watch Lite su bpmpower.com e cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Mi raccomando supportate il nostro lavoro mettendo un mi piace ed iscrivendovi al nostro canale YouTube e se vi va lasciateci anche un commento. Ciao e al prossimo video! Ciao!